Benvenuti ragazzi ad una nuova puntata di Impact Girl che vede protagonista una Impact Girl con la I maiuscola, Beats Girl, Impact Girl, tutti i termini che utilizziamo per descrivere donne ad alto impatto. Parlo di Alice Koukade, conosciuta come Alice Koukade. Ciao Alice, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao e grazie a te. Allora Alice, tu sei una imprenditrice con una bella esperienza alle spalle, soprattutto un'esperienza di non direi nemmeno transizione ma integrazione tra mondo fisico, imprenditoriale fisico e mondo invece imprenditoriale digitale. Raccontaci un po' di che cosa ti occupi e soprattutto come hai vissuto questo passaggio. Allora io dal 2013 insegno i bambini a cucinare con due ingredienti fondamentali, il sorriso e la fantasia così tutte le nostre ricette hanno il profumo della felicità ed è questo che mi ha sempre guidato. Però allora dal 2013 fino a marzo del 2020 io facevo tutto dal vivo. Cosa è successo? Il lockdown e quindi mi sono trovata dall'oggi al domani con tutti i miei eventi che piano piano li vedevo tutti, venevano tutti quanti disdetti per ovvi motivi. Quindi in quel momento lì mi è preso, mi è salito un po' il panico perché ho detto e adesso? Cioè anche perché tra la confusione generale e tutto e quanto però ho trovato, ho trovato te. Io già da tempo ero comunque anche nella svolta school quindi ti ho conosciuta lì e quindi in quel momento sei arrivata come la manna dal cielo, nel senso che io rivedevo i miei valori e un modo di affrontare il digitale molto più in linea con il mio modo di essere e da lì quindi ho iniziato la Biz Academy e è cambiato tutto. Ecco raccontaci in modo proprio da ci facci entrare nel tuo Bizmondo. Quindi prima facevi degli eventi quindi avevi già un'attività avviata, avevi già delle persone che effettivamente venivano fisicamente a fare delle lezioni con i propri bimbi. Esatto. Ad un certo punto hai dovuto integrare gli strumenti digitali. Come come ci sei riuscita? Che cosa hai fatto? Allora quello che mi è servito di più allora dal primo momento in cui sono entrata nella Biz Academy ho fissato i miei valori e quindi la mia autenticità perché quello che ho appreso, che ho capito e che continuo comunque a coltivare all'interno di Biz Academy è l'autenticità. Quindi ho portato online i miei corsi di cucina per bambini quindi la prima scuola di cucina online tutta dedicata ai bambini e ho integrato tutti i valori che proprio mi servivano perché comunque arrivi da un mondo che è reale nel senso che io mi muovevo un po' dappertutto insomma per farli dal vivo a dire come posso trasmettere i miei valori attraverso il digitale con uno strumento che comunque non eravamo ancora proprio abituati ad aprile dell'anno scorso ad affrontare. Quindi in Biz Academy ho trovato tutto quello di cui io avevo bisogno. Io avevo già un po' negli anni prima guardato un po' il digitale però mi mancava l'autenticità perché era proprio quello di cui avevo bisogno per trasmettere ciò che io ero non un qualcosa di pre-confezionato perché spesso cosa capita che ci sono tante scuole che ti dicono come metterti online però ti danno un prodotto già confezionato cioè tu devi fare questo 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 invece in Biz Academy io ho trovato un vestito come un vestito sartoriale nel senso che non c'è un qualcosa che è uguale identico a tutti ma va a valorizzare proprio l'unicità della persona e quindi anche del business che uno vuole portare attraverso l'online. Questo è molto bello e tra l'altro ne approfitto già sai che mi piace molto poi estrapolare dall'esperienza alcuni spunti che possono essere utili a chi ci sta ascoltando a prescindere da qual è lo stadio di esplorazione del digitale qual è lo sviluppo della propria attività però ecco il copia e incolla non funziona mai nel senso che difficilmente esiste una anche nel digitale che in realtà ha delle formule delle strategie degli assetti che sono quelli cioè non è che poi ti puoi reinventare la ruota quelli sono gli assetti quindi all'interno di Biz Academy ad esempio ma anche fuori nei podcast parliamo di funnel parliamo di newsletter parliamo di social parliamo di digital branding però non esiste una formula poi per cui io dico ok il funnel si fa così copio incollo quello che mi è stato detto di fare e poi aspetto e poi mi mi faccio prendere dall'ansia dallo scoraggiamento perché non funziona magari a volte può funzionare per un po però poi senza la creazione di un ecosistema che rispecchi la nostra mission i nostri valori il nostro perché la nostra strategia perché il funnel è uno strumento tattico è un tool è un è come una penna ma poi che cosa scrivo con questa penna cioè di fatto poi cambia completamente quindi mi piace molto questa cosa e quindi invito le ragazze che sono in ascolto a non aspettarsi che da un copia e incolla possa nascere qualunque qualcosa di buono anche proprio facciamo un esempio proprio banalissimo sui social quante volte magari seguiamo qualcuno che ci piace cerchiamo di copiare incollare quello che fa questa persona prendiamo ispirazione e cerchiamo di farlo nostro facendoci delle domande giuste come quelle che ti sei fatta tu ti sei chiesta ok io al di là di andare online perché ne ho bisogno e in questo momento la situazione critica come faccio a farlo portandomi dietro l'esperienza che ho creato e non solo gli strumenti e quello che ho capito cioè che ho appreso di importante che una delle differenze sostanziali che poi fa proprio la differenza anche di chi è online è l'ascolto cioè per me questo è uno dei punti fondamentali perché io beh io mi sono sentita ovviamente ascoltata attraverso biz academy quali erano i miei valori e come trasmetterli dall'altra io mi metto in ascolto dei dei bambini delle famiglie cioè non è un preconfezionato ti mando le mail preconfezionate c'è l'aspetto dei social come se dall'altra parte non ci fossero delle persone perché per me la cosa più importante è proprio il rapporto umano il rapporto umano che ci sono con le persone e con i bambini e quindi l'ascolto l'ascolto proprio a 360 gradi perché è quello che fa la differenza proprio nel business online secondo me perché così non sei uniformata cioè è ovvio che si tratta di business però quando tu hai dei valori delle passioni che riesci poi a focalizzare perché attraverso biz academy io sono riuscita a focalizzare la mia mission i miei valori con tutti i vari step insomma che ci sono all'interno della biz poi riesci a trasmetterla quindi la comunicazione arriva pulita arriva diretta e non hai bisogno di tante tante cose come anche l'utilizzo estremo dei social cioè io ho una community che è poco sui social cioè il mio obiettivo non è quello di far crescere numeri esagerati sui social perché ad esempio io non ho tanti follower sui social eppure nel giro di pochi mesi io ho più di 5.000 famiglie quindi bambini aumentiamoli che hanno fatto lezione online con me ci sono bambini che hanno che hanno fatto più di 50 lezioni cioè allora due un paio di cose che allora proviamo proviamo a dare qualche spunto a chi magari ancora non è nella biz e può in questo modo portarsi a casa qualche qualche tip allora due mi vengono in mente dove ne vengono in mente ascoltandoti il primo riguarda l'importanza di definire i propri valori dall'inizio tu ne hai parlato c'è un piccolo esercizio naturalmente più articolato ma qui ne diamo un piccolo una piccola anteprima che possiamo fare subito anzi consiglio alle ragazze in ascolto di fare subito finita questa questa puntata che consiste nel chiedersi come a proposito di bambini descriveremo il nostro brand a un bambino che non deve essere nostro figlio nostra figlia può essere un bambino qualunque di tra i sei e i dodici anni come come spiegheremo a questo bambino il nostro brand perché spesso siamo talmente innamorate di quello che facciamo e c'è così chiaro quello che facciamo perché noi ci stiamo dietro ci stiamo dentro che diamo per scontato molti aspetti e da fuori può non apparire è chiaro quello che facciamo insomma anche perché a volte non è il tuo caso però ad esempio nel nostro caso business digitale utilizziamo delle terminologie che non sempre sono chiare a chi sta dall'altra parte quindi mettersi nei panni di chi sta dall'altra parte e quindi costruire quella relazione chiedendosi come descriveremo il nostro brand a un bambino che quindi non può conoscere il gergo tecnico ma non perché dall'altra parte non ci siano persone intelligenti ma perché lo spanno di attenzione ormai è ridotto al minimo quindi io devo capire immediatamente quello che fai se comincio se mi confondo se non riesco a capire se non me lo scrivi perché quante volte abbiamo un brand no molte bizgirls arrivano e non si sa chi siano nei social ad esempio non c'è scritto nulla quindi io non riesco a collegare i punti vari assetti digitali del brand no di chi di chi arriva quindi piccole cose che però aiutano chi c'è dall'altra parte a comprendere chi siamo e poi parlavi di relazione quindi l'importanza di non considerare i tuoi clienti iscritti semplicemente un numero un altro rischio no che accade col digitale soprattutto quando le cose cominciano a funzionare devo dire perché ci facciamo prendere dalla foga che allora possiamo continuare a crescere scalare e ci dimentichiamo magari che dall'altra parte invece c'è una persona e che quella persona a quella persona noi abbiamo fatto una promessa che è il nostro la nostra promessa trasformativa quella del nostro brand e quella promessa va mantenuta perché quando la rompi la spezzi e può succedere per sbaglio in quel caso ti scusi ma quando la spezzi per troppo tempo e non la ricucci più è molto molto difficile recuperarla e si crea un effetto boomerang non particolarmente piacevole esatto si io vedo appunto infatti che nel momento in cui entrano cioè i bambini le famiglie poi essendo che si crea questo rapporto poi si protrae appunto va avanti e poi c'è anche il passaparola perché chi si trova bene poi passa magari è bello vedere perché io faccio lezioni in diretta zoom di cucina ne faccio circa 4 alla settimana e più video corsi di cucina perché magari non l'ho detto e quindi è bello ogni volta ci sono un sacco di bambini da tutta Italia non solo insomma è bello vedere questa connessione che si crea e poi mandano le foto e quindi anche il fatto che io vedo soprattutto in questo periodo che bisogna che c'è tanta promozione nel devi aumentare i follow e devi continuare a postare fare storie alla fine sì ovvio che servono anch'io ci sono io ci sono soprattutto quando faccio le lezioni ma non divento matta sui social nel senso perché io ho una connessione attraverso la newsletter che è diretta con i miei clienti quindi diretta e ricordiamolo Alice è automatica per carità anche i social quindi una cosa importante relazione non significa rinunciare alla automazione che il digitale aiuta ad avere perché il bello del digitale è proprio il fatto di poter automatizzare molti processi fra cui quello della newsletter anche i social si possono programmare ma naturalmente è questa informazione importante per chi ci ascolta il livello di relazione che tu puoi stabilire grazie alla tua chiamiamola newsletter ok anche se poi dentro Beach Academy sappiamo che abbiamo varie distinzioni della struttura del nostro funnel è completamente diversa non solo l'automazione quindi la libertà che ti consente poi di avere perché tu puoi letteralmente organizzarti con mesi di anticipo senza poi dover continuamente essere lì a stare dietro diciamo così a un algoritmo oppure ai trend e alle mode ma è chiaro che lo dicevamo anche nell'ultimo training dedicato al funnel building che nel momento in cui io ricevo un'email e mi arriva nella posta elettronica e magari non ho tempo di leggerla in quel momento se tu hai fatto un buon lavoro nel costruire questa relazione io me la salvo o me la tengo come non letta e appena ho un momento me la vado a leggere cosa che non è difficile che succeda nei social perché certo a volte ti puoi salvare i post ma poi è un marasma non li trovi più devi scrollare all'infinito oppure non te li salvi e quindi buonanotte al secchio non li vedi più l'email resta lì è un assetto che resta lì oltre al fatto che naturalmente la reach dell'email anche se non è mai al cento per cento perfetta qualcuno magari non la riceve per motivi tecnici è molto 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 più alta di qualunque reach organica possa garantirci i social quindi bellissima questa questa precisazione raccontaci un po come funziona la tua newsletter ogni quanto lo mandi e cosa c'è dentro allora diciamo che facendo quattro quattro lezioni a settimana è abbastanza corposa nel senso che io mando c'è la comunicazione su come preparare gli ingredienti oppure io mando ad esempio ogni tatto delle video ricette delle video ricette oppure delle storie storie per bambini perché a me piace molto sempre legati alla cucina adesso abbiamo fatto questo il profumo dei libri storie emozioni e ricette e per crescere anche questo felice quindi io c'è il campo delle ricette il campo dei libri quindi io cerco di collegare ed ho sempre anche dei regali insomma chiamiamoli così digitali ai miei iscritti quindi per dargli delle opportunità per cucinare insieme ai propri bambini ecco anche il fatto io do diverso materiale gratuito che loro possono riutilizzare ad esempio i biscotti della felicità la video lezione tutte tutte queste cose che loro possono possono usufruire quindi diciamo con tante lezioni io ne mando diverse ma è tutto automatizzato e comunque io vedo che c'è più di un 70 per cento di apertura delle mail altissimo altissimo chiaro che dipende sempre anche dalla dimensione della lista ma tu ne hai una bella bella ricca quindi è bisogno veramente un dato significativo questo è un dato per chi ci sta ascoltando che dà un'idea di quanto le nostre mail sono attese e desiderate e tutto dipende poi insomma da quella diciamo da quella fase iniziale quella fase iniziale no la prima il primo contatto che noi abbiamo che può venire anche sui social e però poi poi continua e prosegue in maniera strutturata nel nostro sito attraverso la nostra newsletter è fondamentale il nostro biglietto da visita e la prima impressione purtroppo o per fortuna a volte è conta e quando effettivamente io ricevo un'email di benvenuto di un certo tipo che mi fa sentire come una persona e non come un numero perché ok c'ho un altro iscritto alla newsletter è tutta un'altra cosa quindi questo si è proprio il coltivare e poi un'altra cosa che non è che lo fai dall'oggi a domani nel senso che sono tanti piccoli passi fatti giorno dopo giorno cioè noi quando abbiamo iniziato ad ascoltare ecco io parlo al noi perché ho mio marito che mi aiuta anche da quel punto di vista un team siete un team a tutti gli effetti però è proprio piccoli passi ogni giorno cioè anche il crearsi degli obiettivi perché è molto importante appunto creare degli obiettivi giornalieri settimanali mensili trimestrali in modo da sapere dove stai andando perché se uno dice mi prendo il corso nella fase confusa invece l'importante ecco una delle cose principali è avere le idee chiare una mappa che tu sai dove dove stai andando perché se non lo sai vai un po di qua un po di là e riesci a fare. Naturalmente i training di Pizza Academy sono belli intensi per cui insomma è difficile poi magari prendere il singolo pezzettino ma c'è qualcosa fra i training di pianificazione che che possiamo condividere che ti è servito particolarmente che tuttora utilizzi e che possiamo condividere con chi ci ascolta perché lo posso utilizzare già? Ma guarda secondo me una delle cose adesso io ti metto proprio l'immagine fissa che io ho è ad esempio uno degli ultimi che abbiamo fatto a fine anno che è quello proprio di focalizzarsi sui risultati che tu vuoi ottenere l'anno successivo quali sono gli obiettivi che tu vuoi realizzare l'anno prossimo a livello economico a livello proprio di obiettivi di valore su cosa vuoi concentrarti di preciso cioè non puoi metterci dentro tutto e tre ne facciamo tre e dopo gli diamo una scadenza e poi quando abbiamo fatto quelli lì magari nel frattempo riesci a farne anche altri però un passo alla volta perché se no se ti congestioni vorrei fare questo faccio quell'altro e la cosa più importante ecco è il togliere una delle cose che adesso mi ha fatto venire e venire in mente è il togliere togliere dal sito togliere da anche se vuoi dalla comunicazione nel senso di trasmettere l'essenziale e quindi quando tu trasmetti l'essenziale arriva diretto il tuo messaggio anche sul sito io ho fatto pulizia che infatti abbiamo fatto abbiamo analizzato insieme tanti aspetti perché dopo all'interno della Biz Academy tu ci sei sempre anche il confronto con le altre Biz Girls che aiuta molto abbiamo tolto tante parti che erano in più che magari distolgono l'attenzione una cosa ad esempio che mi fanno tanto i complimenti hai veramente un bel sito chiaro che si capisce diretto ed è questo ecco un'altra cosa è il video di presentazione di Quokadè che c'è sul sito che lì ti ricordi la prima cosa che abbiamo fatto quando sono entrata dura un minuto ma lì dentro c'è il succo di tutto e arriva diretto quindi aspetta abbiamo tirato fuori un po di cose interessanti allora le tre i tre focus di cui parli sono parte della mappa 3x3 che è lo strumento che noi utilizziamo ogni anno per organizzare tutto l'anno lo dividiamo naturalmente in trimestri cioè nel senso l'anno è diviso in trimestri volendo da un punto di vista aziendale quindi noi utilizziamo quella quella suddivisione e poi ogni trimestre viene organizzato con naturalmente una predilezione per quello che sta per iniziare anzi domani oggi registriamo il giorno in cui registriamo oggi prevede che domani ci sarà il nostro workshop di pianificazione trimestrale perché poi ogni trimestre ogni inizio trimestre ci sediamo a tavolino tutte insieme e capiamo un po se la nostra mappa 3x3 perché insomma è una mappa annuale quindi è bella ampia ha bisogno di qualche aggiustamento sistemazione in base a quello che è successo però appunto ogni trimestre ha tre adesso non utilizzo i termini all'interno di Biz Academy per non confondere nessuno ma a tre micro obiettivi chiamiamoli così che sono poi anzi ha un macro obiettivo principale per raggiungere il quale individuiamo tre micro tappe che dobbiamo assolutamente raggiungere nell'arco di 90 giorni ecco quindi questo è sicuramente qualcosa che anche fuori da Biz Academy con queste piccole dritte qualcuno può implementare un'altra cosa che hai detto Alice riguarda invece il togliere perché noi tendiamo a pensare non solo nel digitale ma il digitale un po ci porta secondo me ci invita a fare questa cosa aggiungere 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 perché c'è sempre un'altra cosa la chiamiamo no in Biz Academy poi chissà dove l'ho sentita io questo sicuro non è farina del mio sacco ma non me lo ricordo comunque SOS sindrome da oggetto scintillante che il digitale aiuta molto ad alimentare perché oddio posso fare questo oddio questa mi dice che devo fare questo oddio quello mi dice che devo fare quest'altra cosa facciamo tutto poi non facciamo niente perché iniziamo mille cose e non c'è non riusciamo mai a creare un ponte che arrivi al nostro obiettivo abbiamo tanti mezzi ponti che poi come il coyote Willy il coyote ci fa cadere a mezz'aria e poi ovviamente ci cadiamo insomma quindi il togliere importantissimo puntare all'essenziale eliminare tutto quello lo usiamo anche nel copywriting questa è un'altra bella chicca per chi ci ascolta ogni volta che scriviamo qualcosa e possiamo usarlo anche quando parliamo con i nostri team members quindi i nostri collaboratori i nostri partner i nostri colleghi chiunque a livello lavorativo può essere molto utile allenarsi a togliere parole che non sono necessarie cioè che possono essere tolte dalla frase senza alterare anche scritta proprio senza alterarne il significato e a livello di copy quando scriviamo le newsletter le nostre pagine di vendita le nostre landing page togliere è la chiave ti chiedo alice allora se dovessi dare qualche uno spunto pratico a chi in questo momento si trova nella situazione in cui eri tu qualche mese fa quindi dice ok io devo digitalizzarmi e qual è adesso non so che cosa fare tutti mi dicono che è semplice e tutti mi dicono che faccio così ed è fatta io non vedo risultati come si fa? Allora innanzitutto tanti piccoli passi ogni giorno allora io sono partita che comunque sì le prime dirette le prime zoom avevo dieci bambini ok adesso siamo fai conti te che andiamo dai 70 circa bambini alla lezione quindi vari in base al giorno eccetera che cosa è che cosa è stato che ci ha fatto raggiungere questi risultati non è che da 0 a 100 ci arrivi così schioccando le dita ma ci arrivi giorno dopo giorno senza batterti davanti alle difficoltà perché è inevitabile e soprattutto anche per chi magari ha bambini piccoli i mille impegni della vita quotidiana cioè avere un business digitale non vuol dire che online è più facile non è più facile ci sono ti dà gli strumenti attraverso i quali tu puoi raggiungere tantissime persone e hai molte meno diciamo incombenze rispetto ad avere un negozio fisico però devi comunque non puoi entrare nel business online pensando che qualsiasi cosa vada bene che qualsiasi cosa in un attimo arrivi al top ci sono tanti piccoli passi da fare con costanza perché proprio la costanza ogni giorno cioè ogni giorno dire ok del mio business che cosa posso fare oggi anche fosse solo una cosa perché magari e sei stanca e c'è il bambino che piange e ai mille impegni però almeno una fanne perché quella lì l'hai già fatta e il giorno dopo il giorno dopo il giorno dopo si costruisce piano piano proprio si costruiscono le fondamenta e senza rendertene conto magari ci vuole un po più di tempo perché hai tanti impegni perché hai bimbi piccoli perché hai tante cose però giorno dopo giorno ti rendi conto magari passano cinque mesi e dici ma cavoli guarda quante cose che ho fatto sono partita da zero ed è proprio il non abbattersi proprio davanti perché di difficoltà cioè è il cammino è il percorso è la strada cioè le difficoltà bisogna prenderle secondo me proprio come fanno parte della vita e sono quelle che ci fanno evolvere che ci fanno migliorare e quindi anche nel business quelle difficoltà lì io le prendo e dico ok che cosa posso fare per migliorare questa situazione e quindi chiedo consiglio in Biz Academy e tutti gli strumenti che ho a disposizione miglioro non mi abbatto e costruisco piano piano quindi il messaggio che voglio dare è di non abbattersi davanti le difficoltà e fare un passettino alla volta anche piccolo minuscolo però lo fai il potere cumulativo dei piccoli passi che poi è l'unica strada per arrivare ovunque poi è chiaro che a volte c'è la botta di fortuna ci può stare però non è prevedibile quindi inutile che aspettiamo che arrivi la botta di fortuna che che ne so ci aumenta gli iscritti ci aumenta i followers andiamo in televisione lavoriamo come dici tu seminiamo e poi da un semino tira l'altro e nasce la piantina e poi la piantina diventa un ciaspuglio poi diventa un albero e poi addirittura possiamo trovarci a dire ok quest'albero io lo puoto perché decido che mi fermo qui e questa è un'altra cosa molto bella che spesso suggeriamo di valutare di considerare in Biz Academy quindi come dire i grandi numeri si possono raggiungere anche senza diventare schiave della propria attività il digitale naturalmente aiuta per il tipo di flessibilità che offre domanda un po scottante Alice se ecco quando meglio perché succederà sicuramente la situazione rientrerà ti vedi tornare a fare lo stesso lo stesso numero di eventi fisici live di prima oppure cosa cambierà allora guarda ti dico la verità io fino ho insegnato a cucinare a più di 20.000 bambini negli anni quindi un bel numero di bambini e quello di cui mi sono resa conto nel passaggio al digitale è che si riesce comunque a creare connessione anzi riesce a raggiungere più persone che dal vivo non riusciresti e se tu instauri un bel rapporto di diretto dove trasmetti i tuoi valori anche attraverso l'online perché comunque con le lezioni in diretta zoom crei veramente dei legami delle connessioni con tante persone e questo mi ha fatto fare una scelta per questo per questo momento cioè io non vedo l'esigenza o la necessità in questo momento di dire non vedo l'ora di tornare dal vivo ci saranno momenti in cui tornerò a fare eventi dal vivo però comunque anche questa modalità per me è veramente positiva cioè ha portato molto valore cioè ha dato un valore in più ai miei valori a quelli che io voglio trasmettere perché dal vivo posso farlo non posso farlo in scala cioè amplia invece nell'online si posso arrivare a tantissimi bambini contemporaneamente perché con i video corsi puoi raggiungere ci sono bambini che ad esempio lo fanno dall'Australia Australia Canada abbiamo Germania Spagna Kizikistan cioè fisicamente non potrei. E da un punto di vista logistico quanto tempo impiegavate per organizzare e portare poi live un evento fisico? Ecco anche questo tanto perché comunque c'è il tempo per preparare l'evento il tempo per spostarsi la strada e comunque c'è anche un aspetto se vuoi ecologico perché comunque quando devi fare degli eventi che a volte andavamo dai 25 a volte anche 50 100 bambini dal vivo la quantità di materiale che devi utilizzare che poi comunque va gettato perché ti trovi a fare eventi nelle scuole oppure insomma dipende dalla situazione c'è anche se vuoi questo aspetto che adesso ognuno è nella propria casa e quindi si crea anche quel rapporto di familiarità e utilizza le stoviglie che ha in casa cioè si gira al piatto poi lo lavi e quindi trasmetti anche ai bambini un aspetto educativo nel fatto anche di del materiale che si usa del fatto di pulire quello che stanno dove hanno perché ecco per me è una cosa che magari non ho ancora detto la cucina è scuola di vita dove i bambini proprio apprendono dei valori si imparano a cucinare cibi genuini cucinati con amore ma anche imparano l'autostima il mettersi in gioco il saper fare cioè tutte nozioni e valori che poi si ti servono nella cucina ma ti servono nella quotidianità e in tutte le cose perché ad esempio un impasto non viene bene è normale che non venga bene perché tu stai facendo esperienza la prima volta che tu stai cucinando la seconda stanno imparando e questo poi io gli dico bambini ad ogni problema c'è sempre una soluzione al massimo inventerete un'altra ricetta e questo poi lo fai anche nella vita succede qualcosa che non va magari inventi un'altra cosa come è successo con me che tutte le lezioni sono saltate però è nato qualcosa di ancora per me più bello e che ha valore. Quanto tempo ci mettevi ci mettevate a organizzare un evento versus quanto tempo contro quanto tempo ci mettete adesso per fare una live? Allora tieni presente che ci mettevo sei sette ore sei sette ore impegnate tra strada vai prima perché comunque devi allestire devi preparare tutte le cose dopo devi smontare carica in macchina tutte quante le cose perché devi caricare un sacco di cose adesso c'è l'aspetto diciamo amministrativo che dell'aspetto del digitale della formazione però io un quarto d'ora prima di fare la lezione mi preparo le mie cose ovvio che è una cosa importante è avere l'esperienza perché se uno si improvvisa a dire io mi metto a fare questo però non ha l'esperienza ovvio che magari ci metti di più però a parità cioè metti sul piatto della bilancia diciamo che un evento fisico anche con l'esperienza ti richiede tutto un aspetto logistico che o sì o sì te lo devi sorvire invece nel digitale una volta che hai i sistemi impostati e tu ti sei un attimo presa la mano quindi magari la prima volta ci metterai due ore perché hai l'ansia da performance da prestazione la volta dopo una la volta dopo mezz'ora e poi in un quarto d'ora ti prepari quindi bellissimo anche questo e mi è piaciuta molto l'aspetto ecologico a cui non avevo mai pensato devo dire perché io non faccio eventi fisici ne ho fatti davvero davvero pochi nel corso della mia carriera perché mi sono tuffata nel digitale dall'inizio e devo dire che non ho considerato questo aspetto che è veramente un aspetto prezioso Alice mi è piaciuto molto mi è piaciuto moltissimo questa questa chiacchierata abbiamo tirato fuori tanti conigli dal cappello che spero saranno utili a chi ci ha ascoltato dove ti troviamo e se abbiamo dei bimbi come partecipiamo alle tue lezioni allora mi trovate su www.cuocade.com e potete fare una lezione gratuita in diretta zoom ce ne sono tantissime tutte le settimane e oppure ci sono anche i video corsi registrati dove potete sbizzarrirvi con tantissime lezioni a cucinare e divertirvi insieme ai vostri bambini quindi principalmente sul sito trovate tutto trovate tutto abbiamo detto è super chiaro essenziale minimal quindi non vi confonderete sicuro e naturalmente ragazze per chi di voi è interessato ad unirsi alla beats family vi basterà scriverci un'email a teamchiocciolabiz-academy.it raccontateci quello che fate e saremo le prime a dirvi se effettivamente è una strada percorribile per voi oppure se non lo è ancora quindi alice grazie mille per essere stata qui con noi naturalmente ragazzi in ascolto condividete lo spunto che vi ha servito di più sapete che leggere i vostri commenti per noi fondamentali per capire se effettivamente queste puntate vi sono d'aiuto come spero grazie alice grazie a te ciao a tutti ciao questo è tutto per la puntata di oggi spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a beats academy puoi farlo visitando il sito beats-academy.it noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di impact girl grazie a tutti